Più di sei ore di fila per effettuare un tampone molecolare che accertasse la situazione sanitaria di un contatto positivo. Dalle 15.15 alle 19.00 passate, quattro ore sono tante per un adulto, troppe per un bambino che frequenta la quinta elementare e il fratellino più piccolo in terza. La disavventura è capitata ad una famiglia, ad una mamma sola chiamata dall'ASL per effettuare un tampone di riscontro dopo che il figlio maggiore era risultato un contatto di un compagno di classe positivo. In macchina e in fila, come si vede dalle immagini che ci sono state inviate, al drive-in di piano d'ardine dove l'ASL ha posizionato la base per i tamponi molecolari di riscontro. La segnalazione ci è arrivata dal nono dei piccini che pur capendo la situazione di difficoltà pandemica ha sottolineato come la tempistica sia eccessiva con tutte le problematiche per intrattenere i due bimbi in macchina, soprattutto non essendo al corrente delle ore d'attesa che avrebbero trascorso la mamma con i due figli. La richiesta è rivolta direttamente all'ASL che si occupa anche dei tamponi T0 e T5 per la sorveglianza scolastica in caso di un bambino positivo. Quando arriva la segnalazione dalla scuola di destinare anche altri siti a questo tipo di operazione, come ad esempio la caserma Berardi, già predisposta per i drive-thruits vaccinali. O comunque un'altra soluzione, magari dedicata solo ai tamponi per i bambini. Ma la soluzione della caserma Berardi sembra poco fattibile, in primis perché la struttura ha dato disponibilità solo per le vaccinazioni e poi perché sarebbe impossibile destinarla logisticamente anche ai tamponi, visto che la base per le vaccinazioni deve essere tecnicamente sterile e introdurre anche persone potenzialmente contagiate che necessitano di tampone non combaccia con la logica sanitaria. C'è da dire che per le famiglie l'alternativa ai tamponi ASL sono laboratori e farmacie che offrono il servizio a pagamento, un cane insomma che si morde la coda.